Sono il critico d'arte Andrea Di Pre e sono qui per dirti che se sei un artista, se ti senti artista, se ti senti pittore, se ti senti scultore, se ti senti scrittore, se ti senti cantante, attore, se ti senti creativo, se ti senti un illuminato, se senti di essere nato con un talento, ebbene, questo è il tuo momento. Io ti sto proponendo l'unica via per il successo, l'unica via per la visibilità, l'unica via per la fama. Quella via si chiama televisione. È un dato di fatto ormai che l'unico modo per ottenere visibilità, oggi come oggi, l'unico modo si chiama televisione. Come critico d'arte porto avanti da anni una battaglia contro la mafia imperante nell'arte. Sì, perché nell'arte esiste una mafia, esistono dei poteri forti, esistono dei personaggi che vorrebbero che l'arte fosse relegata soltanto ad alcuni nomi, sempre i soliti nomi. Io sento quei nomi e vedo il posto degli assenti, vedo il tuo posto. Oggi purtroppo il talento non è più sufficiente. Se ti senti grande artista ma non ti fai vedere, rimarrai per sempre un nessuno, rimarrai per sempre nascosto, rimarrai per sempre celato nell'indifferenza. E quindi automaticamente sarai sempre infelice, perché di fatto l'artista vuole comunicare la bellezza delle sue opere, vuole comunicare il suo messaggio. Ebbene, oggi hai con me la possibilità di andare direttamente in televisione. Io, Andrea Di Pre, critico d'arte internazionale, verrò direttamente a casa tua, internazionale perché le mie tv si vedono in tutto il mondo, comunque verrò direttamente a casa tua, dove hai le opere, nel tuo studio. Ripeto, non importa sia lo studio, la casa o altre cose, l'importante ci sono le opere. Un cameraman che mi accompagnerà, molto professionale, capace, esperto in riprese artistiche, riprenderà le tue opere, ti racconterà la tua storia artistica, ma soprattutto un grande pubblico internazionale, italiano e internazionale, potrà valutarti. Nessuno può amarti se non ti fai conoscere. Come possono valutare le tue opere se non ti fai conoscere? Quindi l'aspetto fondamentale è farsi conoscere, è andare in televisione. In genere gli artisti commettono due errori. Il primo, quello di organizzare delle mostre, quello di rivolgersi a delle gallerie per delle mostre personali o collettive. Risultato? In quella mostra andranno soltanto amici o parenti dell'artista, spesso l'artista paga fior di quattrini per non avere nulla, anzi per avere una massa di beoni che arriva in galleria per bere e mangiare, in rinfresco. Questo è il risultato. Quindi la mostra in Italia, oggi come oggi, puoi farla ovunque, ma non serve a niente. Non serve a niente. Il secondo errore è quello di farsi cataloghi. Che senso ha fare 100 cataloghi a chi li dai alla fine, a chi li distribuisci? E anche lì spese enormi. La televisione è l'immediatezza, è il potere, è la serietà anche, la serietà perché la tv si sa che arriva in tutte le case, che non la puoi bloccare, arriva senza bussare, ti vedono senza chiedere il permesso. Avrete notato che gli artisti più famosi, quelli che si vendono, sono tutti quelli consacrati dalle televisioni. Io, Andrea Di Pre, utilizzo in modo unico, in modo veramente da Davide contro Golia in alcuni casi, riesco a usare questo mezzo come nessun altro, di cui la mia storia e la mia forza. Quindi io sono qui, caro artista, per te adesso, in questo momento. Lo so che sei solo in genere, lo so che devi muoverti con piglio deciso e risoluto per emergere, ma questa è la tua occasione. Lascia perdere, lascia, dimentica le ottuse e inconcludenti mostre, dimentica le riviste inutili, le riviste d'arte che dicono di essere distribuite dappertutto, quando non si trovano in nessuna edicola. Ma com'è possibile? Andate a vedere, documentatevi, provate. Solo la tv conta, la televisione, perché questo è il potere. Ma il mio modo di fare televisione, i miei programmi televisivi, i programmi televisivi di Andrea Di Pre, che ti sta parlando, che vengono visionati, consultati ogni giorno da milioni di persone. Non sono parole al vento, sono dati di fatto. È la mia storia, è la mia unicità. Perché io per primo vado, sono andato negli studi, nelle case degli artisti. Ovunque tu sia, io ti raggiungo col mio cameraman e vai in televisione. Questo è il potere, questa è serietà, questo vuol dire colmare anche le lacune dei poteri pubblici. Io, un privato, arrivo dove gli altri non arrivano. E poi soprattutto, perché il tuo talento è la tua anima. Promuoverti come artista significa soddisfare la tua anima. Significa soddisfare una tua necessità. Significa fare qualcosa per te. L'appello si rivolge anche a familiari dell'artista, ai familiari che magari vedono che il loro figlio, il loro parente, il loro genitore è dotato a un talento artistico, ma rimane nascosto, chiuso, non sa come fare per farsi vedere. È normale, dovete aiutarlo. Diteli che c'è Andrea Di Pre che può portarlo in televisione, entrando in confidenza con l'artista, perché io so cogliere, io so comunicare l'emozione dell'immagine. Io non mi fermo alle sovrastrutture, io non mi fermo alle logiche di convenienza. Io odio le mafie in genere, ma nell'arte soprattutto, nell'arte. Esiste una mafia nell'arte, perché è normale. Ma lo vedete che alle biennali sempre gli stessi, ma che schifo, che vergogna, che inutilità, ma che me ne faccio di una biennale dove vanno sempre gli stessi nomi. Non è arte quella! L'arte è soltanto nella persona che crede che ciò che fa è uno sviluppo chiarificato e intensificato di un'esperienza. In altre parole, si nasce artisti. Allora, direttamente l'appello si rivolge all'artista. Chiamami in questo momento. C'è il mio numero mobile, c'è il mio sito internet, l'email. Chiamami subito, ti rispondo personalmente e ti porto in televisione. Non ci sono altri mezzi. È immediato, è concreto. Questa è la mia concretezza. Io non parlo soltanto come Farno Dato. Io faccio i fatti. Io parlo di fatti. Io ti porto in televisione. E così il pubblico, dei collezionisti soprattutto, può comprare le tue opere. Può soprattutto farti... può conoscerti. Non è soltanto la venta che è fondamentale, ma anche la fama che giri il tuo nome, che ti conoscano. Come possono apprezzarti se non ti conoscono? Come possono godere delle tue opere se non ti conoscono? Ecco la televisione. Ecco Andrea Di Pre, qui per te in questo momento. È fondamentale. Prima di tutto occorre farsi conoscere. Perché ricordatevi che un artista straordinario, ma sconosciuto, non vale proprio nulla in confronto a uno mediocre e pessimo, ma famoso. È quello che vediamo nei musei oggi. Gli artisti affermati solo perché dei poteri forti la pubblicità li mette su. Ora, nessuno toglie il merito a questi artisti che hanno raggiunto il successo, ma anche voi, attraverso i miei canali, potete arrivare a quel successo. Tocca a voi farlo. Chiamatemi in questo momento. È l'occasione della vita. Perché il tempo passa in fretta. L'orologio non è solo un semplice tic-tac. Dovete, quando capitano appelli come questo, chiamarvi subito. Io arrivo ed è giusto che l'arte vada documentata e esperita. È giusto che l'arte non sia a fare solo di alcuni, ma appartenga invece di diritto a tutte quelle vocazioni creative che hanno voglia di farsi vedere, farsi conoscere e soprattutto a quelle vocazioni che sentono la necessità di comunicare un messaggio al di fuori del tempo. Dunque, se sei artista, se ti senti artista, chiama in questo momento il critico d'arte Andrea Di Pre che direttamente verrà a casa tua col suo cameraman per portarti in televisione. Tutto il resto è la mia storia, è la mia vicenda. Tutto il resto è la serietà di una persona, il sottoscritto, che al di fuori del coro, al di fuori delle mafie, al di fuori delle gerarchie, è riuscito da solo a documentare la storia dell'arte contemporanea. Andrea Di Pre